Sul vecchio anno che muore e sul nuovo che sta per nascere, noi di Babele vogliamo costruire un ponte, un ponte fatto di pensieri e di auguri rivolti soprattutto ai nostri giovani. A voi giovani vogliamo dedicare una bellissima lettera di un grande uomo mistico, Don Tonino Bello. Don Tonino Bello è stato vescovo di Molfetta e adesso probabile beato. La lettera di Don Tonino ha per titolo Giovani mordete la vita. Eccola. Voi giovani non abbiate paura. Vivete la vita che state vivendo con passione. Non recintatevi dentro di voi, relegando la vostra vita in piccoli ambiti egoistici, invidiosi, incapace di aprirsi agli altri. Appassionatevi alla vita perché la vita è dolcissima. Mordete la vita. Non accantonate i vostri giorni, le vostre ore, le vostre tristezze con quegli affidi malinconici dei vostri diari. Bruciate perché quando sarete grandi potrete riscaldarvi ai carboni divampati nella vostra giovinezza. Coltivate le vostre amicizie. Incontrate la gente. Voi crescete quanto più numerosi sono gli incontri con la gente. Quanto più sono le persone a cui stringerete la vostra mano. Il mondo ha bisogno di voi. Ha bisogno di voi per cambiare, per ribaltare la logica corrente che è la logica della violenza, la logica della guerra, la logica del dominio e della sopraffazione. Ecco, queste erano le parole straordinarie di Don Tonino Bello. E noi, carissimi giovani, con questo pensiero di grande speranza, a voi diciamo buon anno 2012.